che cavolo è successo che cavolo è successo mi hai dato da mangiare troppi spaghetti e sono diventato uno spaghetto che cavolo è successo dove sono finiti tutti i nostri muscoli vabbè ma sei stupido questo è un gioco diverso non è quello di là è ovvio lì siamo forti ragazzi siamo nel gioco dei muscoli in un altro gioco dei super muscoli perchè il gioco dei muscoli vi piace un sacco e ne abbiamo trovato un altro che faremo insieme a quello dei muscoli di quello dei muscoli dell'altra volta insieme a quello dei muscoli dell'ultima volta hai capito sono già caduto guarda sono già così nabbo che non riesco a spostare neanche le matite lo scopo di questo gioco sarà diventare super forti spostando queste matite hai visto? a 3 a 3? guarda 3 a 3 ce la fai? 3 per 3? ora 3 per 3 è 33 4 per 9? 16 banane per 2? oh ma quante le puoi prendere? un sacco infatti lo sei allora aspetta che sto facendo il tutorial ah guarda qui qui si diventa forti vieni con me ma dove? alti pesi ok ah questi sono stacchi sono stacchi ho già finito la forza ok mi raccomando lasciate un incredibile mi piace se volete che diventiamo forti perchè ne abbiamo bisogno eh guarda sono già più grosso di te hai ragione no io so più ciccia io so più ciccia beh cosa faccio ora? c'è la chiave da spostare ma quanto ne posso prendere? ecco sono morto ma quanto ne posso prendere? no è troppo pesante la chiave guarda è troppo pesante boom solo una una chiave 6 matite io ce la faccio una chiave 6 matite comunque ci sono allora anche i boost no vabbè non li prendo non li prendo non li prendo facciamo così se vuoi iniziare a registrare anche in questo gioco dobbiamo giocare uguali va bene va bene qui non shop ok ok hai shoppato già allora ci sono anche non ho shoppato i pet allora prendiamo un pet oh si 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 come on non vedi che ci sono le frezze c'è il tutorial ma i pet sono quei cosi giganti i pet sono quei cosi giganti vediamo il pet quanto dà più 5 di energia questo pet dà più 5 di energia kendale comunque è sempre bello riniziare in questi giochi per vedere quanto sei piccolo si e poi diventi gigante mamma mia ma il pet è 10 volte più grande di me ma scusa c'è scritto go small che cosa fai con torna piccolo torna piccolo sarà Robert forse non lo so però guarda ci sono i codici vuoi mettere il primo codice ti aspetta che sto diventando forte ma ora c'è scritto go big wow kendale parla italiano io non ti capisco non ti capisco niente puoi diventare grande o puoi diventare piccolo ok allora codice mettiamo il primo codice vai ci sei è strong 50 strong 50 vai cosa dà wow 700 di energia ammazza andiamoci allenare ammazza la mazza qua invece si dà altre cose ammazza la mazza ammazza la mazza ammazza la mazza ammazza io mi alleno anche io siamo già più grandi di prima ma fanno questi versi quelli che ci allenano vediamo se facciamo gli stessi versi sei pronto vai 3 2 2 1 e aspetta riprova oh ma sono diventato enorme ma che enorme ma sei ma sei anoressico ma che stai dicendo guarda guarda io ho più muscolo di te ma non è vero io ho 30 di muscoli ho il brazzo più grande tu non hai neanche il pet quanto hai io ho 26 io ho 30 quindi chi è più grosso come fai riesco a spostare 6 chiavi però eh 6 chiavi io sposto la foglia te spoileri tutto io spoglio la foglia spoglio la una sola 3 6 io ne prendo 6 6 si si 6 ok adesso io ne prendo 12 6 12 io prendo tutto io prendo 6 foglie no non puoi 6 chiavi o comunque stoppette in mezzo alle scatole veramente ma perché è gigante perché noi siamo piccoli poi diventerà piccolo fra un po' diventerà piccolo te lo dico io 2000 di energia cosa e io 3000 io 3000 ok è una gara è una gara certo che è una gara l'importante è che non scioppi non scioppo te lo prometto te lo giuro che te scioppi dalla faccia i u zu e a b c d questo è per memorizzare l'alfabeto senti un attimo ma altri codici altri codici no ce n'era solo uno purtroppo non è vero ti giuro prova a guardarci ragazzi se conoscete dei codici scriveteceli eh mamma mia sono diventato enorme mi raccomando senti un attimo io mi prendo un pet cosa ti ha dato? niente ma come? eh non lo so perché lo fa io non voglio tornare piccolo io voglio prendere un pet ma perché sei tornato piccolo? oh ho trovato il gatto ma perché sei tornato piccolo? non lo so se scrivi se clicchi go small ti fa tornare piccolo eh ma ti dà dei vantaggi forse no ne ho la più pallida idea oh ma che è successo? oh 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 ma anche qui è tutto buggato prendo un pet iya grazie oh ma ci sono dei bulli che mi picchiano come dei bulli? iya oh io c'ho due pet ascolta ma se proviamo ad andare in una nuova stanza che qui c'è veramente troppa gente facciamo che prima arriviamo a tipo 60 di forza 60? ciò che da ragazzi i u zu e bu u e la o c bu l sono a 58 basta t dai io vado a 60 a 60? asino canta? cosa sei? un pappamolle un pomodoro oh mio dio sono cascato un piripiri sono cascato io sono a 60 dai vado a spostare la spazzatura per la faccia dai vengo con te ora come siamo diventati veloci te la sposto anche io sta spazzatura vediamo oh ce la faccio mica a me non me lo fa neanche ah vabbè in due secondi l'ho spostata devi tirarla a sinistra si 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 fatto fatto il mondo innegato eh ha negato il mondo innevato ok c'è un gabinetto io sposto questo c'è un gabinetto? non ce la fai? no il peso? inizia ad essere pesante sposta la cartigenica prima che ti serve nemmeno perché appena vedi quanto sono grosso te la fai addosso ah hai fatto pure la rima ho fatto la rima hai capito? oh guarda si ma la cartigenica è facile sti pet mi danno noia prendiamo un altro pet vieni 50 costa vediamo eh c'è un problema oh perché non mi fa andare oltre? ho preso una volpe artica ma faccia eh cosa? eh non mi fa andare oltre ma ti devi sempre lamentare st'è bloccata ma dove? qua la cartigenica eh guarda ripiglia è bagata come il dj ti ricordi? ah uffa prendi il nuovo pet che ti dà molta più energia ma serve? ti do anche gli aiuti per diventare più forte ok prendo il nuovo pet prendi il nuovo pet allora prendo il nuovo pet riesco a spostare solo tre cartigeniche oh mio dio hai visto cosa? no ho trovato il raro no dai ma anche qui la fortuna vuoi sapere cosa ho trovato? eh cosa hai trovato? babbo natale non è vero ho trovato è bellissimo lo vedo ma quanto è bello è troppo bello ma non no non è giusto ah 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 dai ma guarda che bello io ora spingo le cartigeniche ho comunque sti pet veramente non si capisce niente con tutti sti pet vero? ma tu quando quanti anni avevi quando hai capito che non si dice cartigenica ma è carta igienica oh mio dio mi hai mi hai distrutto la mia infanzia io dicevo sempre la cartigenica invece è carta igienica anche qua l'ho trovato babbo natale è vero prova anche tu cercalo lo voglio anche io vediamo ti prego ti prego babbo ti prego è raro sì un common quale babbo natale o la renna vediamo quanto ti dà la renna candy cane a me babbo natale dà 35 anche a me ok bene alla faccia tua ma sai che secondo me se arriviamo a 100 possiamo sbloccare l'altro dici guarda che bello oh bellissimo adesso però questo cagnolino non mi piace marrone mi devo allenare dai andiamo a fare un po' diversi i-a u-a i-i-o lalu zubi haru ma dà sempre uno oh ma la prossima cosa è già aperta ma che cavolo stai dicendo guarda ma come fa ad essere già aperto scusi e non lo so qualcuno l'ha aperto per noi aspetta io entro qua prova a entrarci aspetta un attimo io sono già dentro quanta forza sai ci sono le banane come le banane sto arrivando c'ho 60 di forza ma allora conviene prenderlo lì il pet scusi eh sì secondo me pure ma era già aperto veramente ma quanto è grande questo eh vedi adesso iniziamo a diventare grandi oh adesso si eh oh io faccio 100 di energia ci vediamo dopo no vabbè la banana è la banana ta 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 è la banana eccoci io prendo il pet quanto dà la banana non si vede vediamo il pet più raro è il gufo cioè vabbè non ce la faremo mai oh non riesco a spostare la tripla banana sposta 2000 di energia sì vabbè però ti dà un sacco conviene ma la banana la sposti ne sposto due ok quanto ti dà vediamo da 700 il coccodrillo raro il coccodrillo come fa lo voglio anche io quanto costa il pet qua 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 2000 sì vabbè ma non ce l'ho neanche eh infatti neanche io dobbiamo allenarci oh ma Kendall ma vogliamo far vedere che io ho più muscoli di te anche se sei più grande cioè non è vero bella faccia quanto hai tu di forza 70 io c'ho 71 eh ma io sono ma io sono più definito ma perché io c'ho la maglietta ma va perché io sto facendo una dieta una dieta una dieta proteica vediamo il pet eh io mangio troppa pizza purtroppo koala ho trovato beh però quanto ti dà vediamo vediamo il koala da più 75 altro che più 75 altro che questo qua che ho trovato prima ciao proprio sì infatti allora lo prendo prima ora ciao babbo è stato un piacere vediamo cosa mi esce oh mio dio 75 no 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 hai rotto un raro hai rotto le scatole basta cos'è e qua l'hai trovato scusa l'elefante no vabbè no vabbè ma te hai rotto le scatole 250 50 sì vabbè ma ci credo io shoppo allora no 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 ma guarda che bello l'elefante ma è oh mio dio sì ma non vale ma te il gioco ti aiuta ma è il più raro di tutti ma te il gioco ti aiuta comunque io ora vedo ora vedo qual è il più raro di tutti sono curioso ora vedo ora vedo che fortuna io tanto vado nell'altra stanza l'elefante è il terzo più raro i più rari sono elefante cocodrillo e gufo sì vabbè ma il gioco ti aiuta io boh cioè io non lo so il gioco ti aiuta no un altro ne hai trovato no no basta basta ho trovato la tigre 120 è bellissima 120 di forza mi dà basta io mi alleno non mi servono i pet per vincere anche io ora mi alleno ua giga lulla gelato 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 papà rapà sono 80 arrivo arrivo 80 ora io faccio 100 sì vabbè banane le riesco a spostare sì uno due tripla banana tripla banana sì però il gioco ti aiuta troppo anche io sono 80 sposta sposta ste banane banana una o tre quante le sposte tre quanto mi dà io ne riesco a spostare solo una eh ma le banane da tre ah però una eh una non tre ah ok genio dai cerca un pet raro vediamo se hai il coraggio adesso ci provo non ho i soldi per comprarlo un attimo io sono l'elefante raro sai cosa faccio te ridi ma io adesso vado di là prendo un altro pet e batte tutti i due messi insieme dove di là eh vado nell'altra stanza non ci riesci a spostare il legno scommettiamo quello che vuoi scommettere vai spostalo sposto vado vediamo vai vai preso eh sì non ce la faccio perché te l'hai disapprovato no non ce la faccio ma è ovvio bella faccio siamo dei piccolini abbiamo tanta di forza non ce la faccio uffa ok nuovo pet vediamo dai ti prego più forte di candle ti prego ti prego ti prego raro il coccodrillo no oh mio dio l'hai trovato veramente più forte del mio più 250 ah no è uguale il mio il mio mi dà 250 pure oh mio dio e adesso guardalo coccodrillo eh ma ora ora ti serve anche la tigre ma va a me non mi serve nulla guarda vediamo quanto dà due barane vediamo ma come fa a essere così forte ah due ok io ne sto spostando quattro ma scusa te quanta forza c'hai 80 80 sì anche io ce ne ho 80 sì ma a volte si blocca guarda no poverino vuol dire che non è abbastanza muscoli forse uè uè non è oh comunque io ho un bicipite assurdo altro che il tuo sì ma se sei ancora un piccolino bella faccia eh ma io sono più definito sarà la dieta protreica 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 che sto facendo protozoica protozoica che sto facendo che malleno basta chiacchiere basta chiacchiere di sentire qua non c'è qua non c'è il grado comunque quale grado ah il nome il nome del grado no però c'è gente che c'ha mille di forze e 20 milioni di energia ma scusa ma se facciamo adesso ghost ball eh cosa succede niente dai prova a farlo non succede guarda no non farlo non farlo non farlo lo faccio no no non farlo guarda no Kendall non farlo dai guarda qua boom no e adesso non è successo nulla perché ora guarda go big ah ah ma allora ah ma allora eh ma non so a cosa serve a saperlo prima eh ad assaporarlo prima non riesco a spostare tutte ste cavolo di banane comunque oh io c'ho 100 di forze e ancora riesco a spostarne solo 3 io ho 94 e ti supererò hai capito ma io ho 100 come fai a superarmi ma come hai già 100 certo allora facciamo chi riesce a spostare per primo il tronco è una sfida sì prima che finisce il video per oggi chi riesce a spostare prima il tronco chi riesce a spostarlo per primo ha vinto ok ho praticamente già vinto no 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 dai 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 per me serve 200 per il tronco dici vediamo io provo già a spostarlo no 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 non vale vediamo no non va ma certo che non va e tu stai perdendo tempo io cavolo 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 non devo perdere tempo ma è scioppa per la faccia è l'unico modo che hai per vincere ah vuoi che scioppo fai puro intanto non mi batterai neanche scioppando quante banane stai spostando 10 ma che cavolo di oh ma non riesco a spostarle ma vi togliete dalle scatole ma anche qui siete in mezzo sempre alle scatole pista pista devo passare io pista 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 guarda mamma mia dai 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 devo riuscire a vincere speng speng però vedi che qua sono geniali anziché metterti tre banane tutte distinte te le mettono tutte insieme così non si crea la calca è la calca vedi eh perché sennò c'erano sempre quelli come te se no c'erano 30.000 banane che ti bloccavano la strada 30.000 banane come sempre oh finalmente hanno capito come si gioca eh ora sai cosa faccio io mi alleno no 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 io vado ad allenarmi sai quante energie ho sai quante ne hai 20.000 S e quanta forza avevi pento no è impossibile U A I A U A U A U I A U A oh sarà bloccato non mi vuol far vincere il gioco tu hai fammi indovinare quanto hai di forza hai 108 come hai fatto ah vabbè lo vedi perché lo vedi io so tutto sì perché te lo vedi da qua io ti vedo eh guarda dove sono io sì sì continua a allenarti e perdi tempo dove sei ma non ti vedo ah sei lì eh 120 di forza dai ma è possibile che 120 4 banane non riesco a spostare 124 ma guarda questo quanto è gigante guarda io mi sei rotta la maglietta ma che cavolo dici guarda fa vedere non ti vedo ci sono troppi pet guarda è vero ti sei rotta la maglia è diventata una vedi sto spostando 4 banane 4 banane anche io no tu 3 no 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 io 4 ne ho eh ok allora sposto il tronco spongo 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 il tronco spongo il tronco dai oh ste banane si sono bloccate no non ci riesco ancora ma guarda ste banane si sono bloccate eh te l'ho detto che a volte capita se vabbè ti piace vincere facile eh ponzi ponzi pom 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 oh ma secondo te quanto ci vuole no non spostarlo oh no non ce la fai oh no non ce la fai non ci riesco secondo me per la faccia ci vogliono più di 200 dici si per me possiamo stare qua fino a domani allora ragazzi continueremo ad allenarci guardate che bicipite cioè guardate dovete lasciare un mi piace per ogni bicipite enorme di questo gioco quindi una marea da noi è tutto e ciao 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 ciao